Siamo ora al momento della nostra rubrica, la vecchia Padova, andiamo a scoprire com'era il salone, vero primo centro commerciale naturale della città. Se il palazzo la ragiona il monumento di Padova, colpire e notare della mastodontica struttura sia i padovani che i turisti, gli studiosi, i semplici, i curiosi, è il salone, un posto amato da tutti e che raccoglie come madre amorosa la gente per nutrirla, saziarla, rallegrarla, giungo ad ogni parte della città percorrendo le strette strade, una decina che sfociano le due piazze. In questa attività quotidiana si rinnovano i riti antichi, cioè la vendita di quegli stessi prodotti offerti nell'epoca comunale, signorile del dominio veneziano, il pane, il vino, la carne, le uova, il pesce, la frutta, la verdura e quindi le scarpe, i tessuti, i gioielli, i fiori, riti ordinati secondo le regole delle fraglie e delle corporazioni con i prezzi e le misure indicati da calmieri. La camatta in piazza alla frutta dove si vendeva quel famoso pane è diventato proverbiale, chi va due volte alla camatta non si può più partire da Padova e che fu cantato a Ruzzante e dal Dottori. Vediamo che per esempio la piazza della frutta una volta si chiamava la piazza del Peronio, Peronio perché? Perché c'era il commercio delle calzature, abbiamo ancora il fondaco delle biade, dove si commerciava tutte le parti, la paglia, il fieno, tutte quelle cose lì. Poi il salone a se stesso prende le sue quattro scale. Questo mercato era nel Medioevo la testimonianza più viva dell'autosufficienza di Padova, i prodotti che giungevano dal territorio costituivano la ricchezza di cui la città poteva disporre andare fiera. Quanto più la campagna era fertile e ben curata, tanto più la città era destinata a prosperare e rafforzare la propria vocazione mercantile. La vita cittadina ha sempre ruotato attorno al salone, ai cui lati i quattro scaloni gli conferiscono una particolare solennità. Tre di essi si appellano a prodotti della natura, scala delle erbe, scala degli uccelli, rispettivamente occidente e oriente di piazza della frutta, scala del vino occidente di piazza delle erbe, qui si contrappone a oriente la scala del ferro, dei ferraiuoli, così chiamata per il mercato del ferro che lì si teneva. L'installazione di negozi a piano terra nell'ammezzato del palazzo anticipò addirittura i mercati coperti, i supermercati di tempi moderni, con le botteghe per la vente di prodotti pregiati, oggetti di orificeria, pellicce, stoffe di zendalo e broccato, scarpe, vestiti raffinati e materiale scrittorio.